I sempre maggiori consumi della cittadinanza mesagnese seguono l'andamento globale. A Mesagne si è dibattuto anche di questo nel corso dell'incontro dal titolo Il servizio smaltimento rifiuti urbani di Mesagne. Ad organizzare l'incontro il coordinamento cittadino del popolo delle libertà. Dopo l'introduzione di Franco Prettico il sindaco Enzo Incalza ha salutato i presenti giunti in sala consigliare per ascoltare gli interventi del vice sindaco nonché assessore all'ambiente Damiano De Ponzio il presidente della terza commissione consigliare Cosimo Grassi e Franco Facecchia, presidente del circolo di Lega Ambiente. Presenti alla tavola rotonda anche i rappresentanti sindacali CGL, CISL e UIL.